Un quartetto d'eccezione per il terzo appuntamento della rassegna Jets on Corner, quest'anno all'interno del cartellone del Festival delle Musiche. Protagonisti all'Arena Eden, la jazz vocalist Romina Capitani, assieme a Steve Rudolph al pianoforte, Giacomo Rossi al contrabbasso ed infine Ettore Fioravanti alla batteria. Un gruppo d'eccezione, non capita quasi mai di poter avere la stessa sera Steve Rudolph dagli Stati Uniti e Ettore Fioravanti da Roma, cioè da Roma, quando sta a Roma, in questo momento era a Roma. Quindi sono veramente emozionata di poter suonare stasera con loro e con Giacomo Rossi a contrabbasso. Il quartetto ha proposto una selezione di grandi standard del jazz all'insegna delle contaminazioni e dell'interplay. Romina, io la conosco da tempo, però è sempre stata molto timida, un po' riottosa. e negli ultimi anni ci siamo un po' incrociati musicalmente e ho scoperto una donna di grande profondità musicale per cui sono molto contento di avere a che fare con lei stasera e spero nel futuro.